Abbiamo il numero 13 che è Fabio che interpreta Shu, che è un suo original, quindi il numero 13. Sono sempre in mezzo. Sono sempre in mezzo. Un applauso. Allora, Fabio, vieni qua. Perché ti avevano detto, ma fai il presentatore, è un lavoro tranquillo. Prima o poi uno di questi ci stacca la testa. Potete ucciderselo? Fabio, io ti ho già visto un sacco di volte, perché io penso tu gareggerai anche domani, giusto? No, non ce la fai. No, lui ha vinto il miglior maschile a Galarate, ha vinto il Cosplay Fight, penso a Novegro. Il Cosplay Fight a Galarate? No, a Novegro. Ah, a Novegro. E a Galarate ha fatto Ryu, e a Novegro ha fatto Sub-Zero, e si è scontrato con Cosplay solo categoria Fight, e lui ha battuto tutti. Beh, direi che ci è riuscito anche molto bene, visto i suoi doti. Manuele, ma come mai sai fare tutte queste cose? Per passione, io mi alleno da quasi 14 anni, faccio adesso uno stile misto, ho studiato tre stili diversi di ardi marziali e li ho uniti tutti di sera. Quindi è tipo sul ninjitsu o cose del genere? Ho studiato ninjitsu, karate e capoeira. Complimenti, beh, 14 anni spesi bene direi. Fate ancora un applauso. Grazie Fabio. No, no, no. Grazie a tutti.